e buongiorno a tutti oggi siamo collegati con anna dauria che è la segretaria nazionale del movimento di cooperazione educativa con beppe bagni che è il presidente del cd centro iniziativa democratica degli insegnanti perché parliamo con loro perché loro anzi le loro due associazioni insieme con altre due associazioni professionali molto importanti proteo fare sapere e l'associazione italiana dei maestri cattolici hanno prodotto proprio in questi giorni un documento molto interessante molto importante sul tema della valutazione nel 2020 il ministero aveva emanato una ordinanza la numero 172 con la quale veniva eliminato diciamo così l'uso del voto nella scuola primaria era stata introdotta una nuova modalità e cioè la valutazione formativa adesso siamo a un anno e mezzo da quel cambiamento ci sono state delle novità importanti la sperimentazione di questo anno e mezzo è andata bene però bisogna avere uno sguardo in prospettiva e capire che cosa potrà succedere prossimamente anche perché già allora quando l'ordinanza ministeriale venne varata già allora le associazioni avevano detto sì va tutto bene siamo soddisfatti però bisognerà anche pensare a qualche cosa in più ecco Anna Dauria allora che cos'è questo a qualcosa in più a cui voi pensate e che andrebbe fatto anche in tempi abbastanza rapidi penso che si parli di attività di attività formative ma anche attività di monitoraggio ecco facci un po' una sintesi di quello che voi associazione associazioni vorreste che si facesse rapidamente nei prossimi mesi beh intanto grazie Reginaldo per l'invito noi riteniamo che la l'ordinanza ministeriale 172 che ha fatto seguito all'abolizione abbia veramente introdotto all'interno della scuola primaria in questo caso degli elementi di grande riflessione e di possibilità di innovazione abbiamo cercato come associazioni di accompagnare questo processo in questo anno e mezzo facendo dando alle scuole la possibilità di fare con noi dei percorsi di ricerca formazione e bisogna dire che le scuole sono state molto recettive cioè insomma gli insegnanti sicuramente hanno accolto l'innovazione inizialmente con qualche difficoltà si sono poi cimentati in processi di riflessione di sperimentazione di nuovi strumenti di valutazione non senza difficoltà ma questo è normale all'interno diciamo è fisiologico all'interno di una realtà dove comunque la valutazione ha sempre avuto una funzione permanentemente selettiva classificatoria quindi ribaltare lo sguardo sulla valutazione assolutamente non è facile adesso il ministero ha con l'ordinanza ha praticamente chiesto al gruppo di lavoro ministeriale coordinato da elisabetta nini di fare la formazione ad un numero di insegnanti formaturi che poi devono attivare questa formazione a cascata nelle scuole primarie ecco la prima questione da porsi è uno sicuramente rinnovare l'opera del gruppo di lavoro per dare continuità a questo processo perché i processi insomma non si fanno da soli vanno accompagnati vanno sopportati da precise azioni 2 capire anche questi formatori che praticamente si è concluso il primo circolo di formazione che ha visto insomma molti docenti circa 191 docenti formarsi con quasi 100 ore di formazione in che modo potranno fare formazione nelle scuole quali sono le misure che sono state previste ora da questo punto di vista sicuramente come insomma va sottolineato una cosa noi dovremmo poter prevedere all'interno questo insomma come movimento di cooperazione educativa è una cosa che sosteniamo continuamente che soprattutto laddove ci sono innovazioni della norma sarebbe necessario far introdurre delle misure straordinarie obbligatorie di formazione cosa che non è stata fatta per le indicazioni nazionali né nel 2012 né nel 2018 con il documento bellissimo nuovi scenari ma purtroppo ancora non si farà con la valutazione se questa continua a essere l'opzione che esprime l'insegnante quando invece è ormai norma dello stato e dovrebbe richiedere delle misure straordinarie ecco senti anna però appunto proprio su questo c'è un tema nella scuola italiana c'è molto spesso un po questo andazzo chiamiamolo così che si fanno le riforme si introducono delle innovazioni si fanno magari anche delle belle cose ma si capitalizza poco cioè si monitorizza poco quindi alla fine alla fine di tutto succede che magari si fanno anche delle cose molto interessanti che però restano lì nel chiuso della singola scuola non circolano e alla fine non se ne sa granché ecco questo è un elemento invece che andrebbe su cui andrebbe fatta una riflessione magari bisognerebbe pensare a qualche cosa su questo tema tu che idea hai la vostra il vostro movimento cosa pensa no noi pensiamo tra l'altro anche insomma la stessa ordinanza 172 prevedeva delle azioni di monitoraggio cioè noi riteniamo che così come si chiede l'insegnante riflessivo cioè un insegnante che sappia riflettere sulla propria esperienza per modificarla integrarla accogliere nuove contaminazioni la stessa cosa dovrebbero fare le politiche scolastiche non è possibile lanciare un'innovazione normativa senza poi poterla seguire monitorando i risultati dell'innovazione le pratiche che sono state introdotte dando anche la possibilità di raccogliere le migliori pratiche per poterle poi diffondere produrre in maniera più diffusa una cultura della valutazione formativa ecco tutte queste azioni sicuramente renderebbero un processo molto più forte e concreto piuttosto che arrivare ad una norma e poi lasciarla cadere senza nessun'azione di sossegno all'interno di un ministero e di politica informativa che non sono in grado di riflettere su se stessa una domanda per beppe bagni senti beppe tu oltre ad essere presidente del cd sei stato anche per molti anni all'interno del csp quindi hai anche una visione molto ampia puntuale anche da un punto di vista diciamo curi istituzionale ecco ma sulla base della tua esperienza e sulla base dei dati che tu hai raccolto anche come membro del csp ma perché secondo te nel nostro paese è così difficile come dire capitalizzare le buone cose che facciamo mi riferisco in particolare ovviamente al mondo della scuola è un po un sembra quasi un tratto distintivo della nostra scuola cioè facciamo delle belle cose però restano lì ecco non si capitalizza mai non si non si fa non usiamo l'esperienza passata almeno questa è la sensazione che molti di noi hanno viene dal fatto secondo me che tutto sommato non c'è un filo conduttore non c'è un'idea di scuola che di pedagogia che debba essere applicata e non essendoci questo filo conduttore vista questo tracciato questo percorso verso una scuola al passo dei tempi una scuola al passo della dell'apprendimento degli alunni e degli alunni avvengono delle cose episodiche che poi regolarmente finiscono per essere accantonati e messi a fianco ad altre assolutamente incoerenti noi abbiamo scritto questo documento insieme proprio perché vorremmo riuscire a fare pressione perché finalmente prendendo spunto dalle buone intuizioni dalle buone lavorate dietro dietro questa ordinanza c'è un pensiero profondo c'è una ricerca didattica e pedagogica c'è un'idea di di scuola che camminava da tempo poi si è stoppata perché noi facciamo incontri al ministero ben prima del 2020 e poi ci discernò la scuola non è pronta poi vennero fuori le reazioni degli insegnanti e si tornò indietro ecco però questo questa andare incerto questo fare un passo e poi farne due indietro questo non avere mai un percorso lineare noi lo crediamo sia un motivo di grande sofferenza per la scuola ecco perché questa volta proviamo a dire diamo continuità cominciamo a individuare veramente un percorso di formazione abbiamo i soldi finalmente abbiamo le risorse pnrr finiamolo con quest'idea della formazione fai da te che ognuno studia quello che gli pare e vediamo se la scuola si mette tutta insieme a studiare quello che c'è quello che è già una norma quello che deve camminare sulle gambe dell'autonomia perché noi riusciamo veramente andare in questa direzione o sennò rimarranno belle intuizioni belle esperienze e poi finiscono firme da una parte e non vanno e noi e la scuola continua andare avanti come un gambero senti beppe tu hai anche grande esperienza di scuola secondaria e di secondaria superiore dove tu hai insegnato per molti anni secondo te c'è la possibilità concreta che il modello della ordinanza 172 venga esteso almeno almeno alla secondaria di primo grado io io penso che almeno alla secondaria primo grado sia necessario noi abbiamo i comprensivi e comprensivi sono una realtà che tiene insieme la scuola dell'infanzia la primaria e la secondaria di primo grado non è possibile che all'interno dello stesso collegio noi non riusciamo a trovare un filo conduttore nella valutazione che dia coerenza e quindi anche sviluppo progressività a questo modo di valutare io direi di più io direi che bisognerebbe arrivare fino alla chiusura dell'obbligo di istruzione direi che anche il primo biegno della secondaria di secondo grado almeno quel biegno che all'epoca di berlinguer e fu definito anche dell'orientamento questa questa larga questa questo biegno di scelta degli alunni ma non di scelta irrevocabile no di scelta perché dentro la scelta lo seduto lo studente e la e la studentessa devono capire i loro interessi allora in quella fase esprimersi attraverso un giudizio sul suo apprendimento è un modo di orientare molto più sensato del voto e quindi io io dico per la scuola media per la secondaria di primo grado è obbligatorio questo sviluppo è letteralmente obbligatorio perché da coerenza a un percorso di istruzione che ormai è lineare all'interno del comprensivo io mi spengo oltre pur sapendo tutte le resistenze che faranno gli insegnanti disciplinari a questa cosa se la valutazione formativa riuscirà a trovare una sua efficacia non a un giudizio generale generico non il voto trasformato in giudizio che di quella non abbiamo nessun bisogno ma un giudizio che dia veramente conoscenza di sé agli alunni sia formativo perché fa capire le caratteristiche di ciascuno gli interessi link non gli inclinazioni no non mi piace usare inclinazioni perché gli studenti non nascono inclinati non sono la storia di pisa le scoprono da sé le proprie attitudini ecco però un percorso che stimola la scoperta delle proprie attitudini deve essere argomentato deve essere narrativo assolutamente ma allora una domanda per entrambi iniziamo con con anna dauria ma però a leggere un po quello che scrivono molti insegnanti nei social e altrove ma insomma c'è un po questa idea ma da parte di molti insegnanti ma però insomma se mi si toglie il voto io poi come faccio a fare in modo che gli studenti imparino come faccio cioè mi toglie uno strumento importante per convincere gli studenti ad imparare è una è una visione devo dire la verità un po curiosa secondo me del rapporto fra insegnante e studentessa cosa ne pensi anna penso che praticamente una visione che sicuramente nasce alle spalle una visione della relazione insegnamento apprendimento una visione di scuola perché insomma tutti i maestri gli insegnanti della pedagogia democratica ce l'hanno detto in tutto il novecento l'apprendimento e si deve legare necessariamente nelle neuroscienze lo hanno dimostrato alla motivazione quindi lo strumento e la motivazione non è assolutamente il voto tra l'altro un voto che gli ultimi decenni viene utilizzato all'interno di un ideologia del merito per cui fa anche ritenere colui che non raggiunge quel voto che è inefficace che non riesce che non funziona con grande veramente perdita proprio di risorse umane di intelligenza e di creatività al contrario il compito della scuola se veramente la scuola vuole assolvere la sua funzione emancipativa così come ci dice la costituzione è legata alla rimozione degli ostacoli per la rimozione degli ostacoli la scuola almeno quella dell'obbligo sino al sedicesimo anno che noi vorremmo sino al disottesimo deve operare attraverso una pedagogia differenziata cioè una pedagogia che si avvalga di mediatori tra il soggetto e i saperi tempi organizzazione degli spazi strumenti per permettere ad ognuno a partire da sui bisogni formativi di raggiungere i risultati dell'apprendimento è ovvio che questo richiede però un'altra relazione con la progettazione didattica è un altro modo di interpretare la relazione tra progettazione didattica e valutazione a partire dal primo presupposto fondamentale che di fronte a qualsiasi deficit di apprendimento l'insegnante dovrebbe chiedersi se ci sia stato un deficit di insegnamento e quindi una valutazione di termini di autoregolazione del processo di insegnamento beppe tu cosa vuoi aggiungere su questo poi ho una domanda specifica per te il voto motivante è un'idea demenziale io mi ricordo una bambina a cui chiesero che cosa ti piace della scuola e lei rispose a me mi facciano le cose mi vengono bene a scuola perché quello che è motivante è quello che ti riesce bene e quello che ti dà soddisfazione e poi mi ricordo che appunto bellissima frase di bigos che diceva che in realtà non si può nessuno può insegnare niente a nessuno si impara sempre da soli si possono creare il contesto che fa scattare la scintilla per cui l'alunno l'alunna decidono di imparare allora se è vero questo il 4 il 5 l'insuccesso non spiegato che non ti dà elementi per passare da quel 4 e da quel 5 al 6 al 7 all 8 non serva niente è motivante quando la valutazione ti dà conoscenza di te stesso e di cosa sono i tuoi punti di forza con ciò che è motivante è una valutazione formativa che diventa autovalutazione e allora più la fai discorsiva più la fai usando i termini comprensibili e meglio è altrimenti dietro il 5 dietro il 4 ma anche dietro il 6 il 7 se non mi dici perché ho meritato 6 o 7 o perché ho meritato 4 io non so come correggermi quindi è sempre il giudizio sull'apprendimento che è motivante e che fa scattare il desiderio di imparare che fa scattare il successo che ti fa sentire quella cosa la sai fare e questo ti fa andare volentieri a scuola ecco quindi questo secondo me è quella dell'idea che il voto sia uno strumento per motivare non funziona così ecco anzi molti voti sono quelli che scoraggiano e spingono all'abbandono ricordiamoci che il 50 per cento degli alunni e boccia una volta continuo a bocciare questa è la statistica per cui la bocciatura educativa non lo è può essere può essere inevitabile in alcuni casi ma che sia formativa educativa ormai dimostrata che non lo è allora a partire da settembre voi che cosa vi aspettate o che cosa auspicate proprio detto in tre parole concretamente cosa vorreste anna allora vorremmo che si mettesse mano all'organizzazione della formazione sui percorsi di ricerca formazione valutazione formativa nelle scuole utilizzando le risorse che sono state formate ovviamente dando seguito al lavoro della commissione vorremmo che in tutto questo le università aggiornassero i loro curricoli si attrezzassero per introdurre la riflessione sulla valutazione formativa attraverso attività laboratoriali che mettono i futuri insegnanti in contatto con gli strumenti della valutazione formativa vorremmo poter raccogliere le buone pratiche di valutazione senza voto nella scuola media nella scuola secondaria di primo grado per poter dimostrare che è possibile e e praticamente provare a trovare insomma dei momenti di incontro con la società civile col mondo della scuola con i politici per riflettere sul fatto che c'è insomma l'obbligo emancipativo della scuola non si ferma in quinta elementare e quindi beh a te chiederei questo allora proprio su questo punto ma secondo te si potrebbe pensare allora magari per l'autunno del 2022 ad una conferenza ad una serie di iniziative estese proprio a tutto il mondo della scuola e magari anche come dice Anna alla società civile proprio per fare un po il punto della situazione cioè fare un grande settembre o un grande autunno pedagogico in cui si parla di questo a tutto campo per rilanciare il tema della valutazione per fare il punto su tutte le buone cose che si sono fatte potrebbe essere un'idea questa voi come associazioni ce l'avete in mente un progetto del genere noi abbiamo in mente appunto un convegno sulle esperienze positive che avevamo già programmato per un mesetto fa poi abbiamo visto i tempi erano troppo stretti e lo riprenderemo in considerazione da settembre perché volevamo documentare e presentare le migliori esperienze in questo senso anche di esperienze di comprensivi che hanno cercato di dare coerenza alla valutazione fino alla secondaria di primo grado quindi questo è il nostro obiettivo poi il CID ha sempre avuto il settembre pedagogico nella sua tradizione quindi una ripresa della scuola all'insegna di una riflessione sulla scuola non tanto su soltanto sulle ordinanze o sui decreti ma proprio su quale è il modo di fare scuola indispensabile oggi quindi noi cerchiamo di farlo insieme perché siamo convinti intanto che serve a noi un confronto fra associazioni interna ci allarga gli orizzonti siamo cresciuti molto nella nostra collaborazione e poi perché per fare una cosa che abbia un certo richiamo e possa raccogliere esperienze di tutta Italia c'è bisogno delle risorse associative che sono diverse nei diversi territori quindi continueremo sicuramente su questo percorso. Bene quindi auguri per queste iniziative e quindi ci rivedremo allora proprio su questi problemi a settembre nell'autunno prossimo e vediamo davvero che si possa fare qualcosa per aiutare le scuole a riflettere sempre di più sul proprio lavoro e a diffondere e a scambiarsi le esperienze che sicuramente non mancano. Bene grazie a Beppe Bagni presidente del Civi grazie ad Anna Dauria segretaria nazionale del movimento di cooperazione educativa